Siamo con Gigi Manini nel post partita di Ternana Virtus Entella 3 a 0, in Mixon qui allo Stadio Libero Liberati, una vittoria fondamentale per la Ternana, per la sua classifica. E non scontata, visto che l'avversario arrivava da sette turni in cui era rimasto imbattuto nel campionato, piena zona playoff e sicuramente il primo di una lunga serie di squadre avversari molto ostiche. Però la Ternana è stata convincente oggi. Beh, direi una bella vittoria, importantissima, sì. Secondo me 15 punti, ancora la classifica è un pochino, eh sì, assolutamente deficitaria. Però, insomma, ci mancano sempre quei quattro punti, secondo me, con Gessena e Trapani. Quelli ci metterebbero un pochino più tranquilli. 15 punti, ancora tutto da giocare, anche perché, come dicevi tu, come ricordavi te, adesso il calendario non è agevole. Secondo me col Frosinone è una partita, non dico dal pronostico giusto, però, insomma, è una partita difficile. Il Frosinone è un'ottima squadra, andiamo a giocare là. Quindi la vittoria, anche per questo, è ancora più importante. E poi dopo abbiamo un po' di partite in casa e fuori, ma comunque con tutte squadre competitive. Quindi l'obiettivo è arrivare a 23-24 punti alla fine del giorno d'andata. Sarebbe un buon punteggio, visto come si era messa. Poi dopo a gennaio bisognerà intervenire. E diciamo che questi tre punti sono importantissimi per arrivare a quella quota. Della partita, direi che la Ternana, mi pare, l'ha portata a casa con una certa tranquillità. L'Intella è stata assai deludente. C'è stato un momento in cui abbiamo rischiato che la partita si riaprisse quando dopo il gol mangiato, insomma, dopo la grande occasione di Petriccione all'inizio della ripresa, loro hanno preso un palo prima con Costa Ferreira, poi Caputo si è mangiato un gol che, sinceramente, non gli ho visto quasi mai mangiare. E lì potevano fare il 2-1 e la partita si sarebbe riaperta. Invece la Ternana, poi dopo l'ha amministrata bene, ha segnato il terzo gol. Mi pare che non ci sia nulla da dire. Adesso sentiremo anche i giocatori dell'Intella, ma mi sento di dire che la vittoria sia oggi assolutamente meritata. Mi pare che l'arbitro abbia messo anche oggi qualcosa, diciamo, che non è stato decisivo. Però, allora, mi diceva Luca Marchetti, che ha rivisto le immagini, non le ho riviste, che il fallo di Keita su Falletti è bruttissimo. A me mi è sembrato che fosse scivolato il ragazzo. Insomma, comunque, il fallo era brutto. Poi, nella gestione dell'ammunizione, mi pare, l'arbitro non sia stato equanime, che ha ammonito moltissimi giocatori della Ternana e pochi. 5-1 il finale, quindi 6-1. 6-1 il intervento poteva costare caro, perché se si fa male Falletti la Ternana, poi dopo, insomma, visto che la Rosa è quella che è, se si fa male anche Falletti, insomma, rischiavamo di compromettere il campionato. Quindi, quello era un fallaccio brutto da sanzionare, almeno punizione e ammonizione, non lo so, sull'espulsione, se è volontario espulsione comunque. Molto più grave del fallo che è costata l'espulsione di Meccariello, per dire, se fosse volontario. E, inoltre, insomma, la gestione dell'ammunizione, mi pare, è una partita equilibrata nella quale la Ternana non è stata così più cattiva dell'entella. L'unica cosa che mi sento dire è che Aresti tiene troppo la palla in mano. Adesso, non so, l'ha ammonito, però dovrebbe liberarsene prima, perché se trova un arbitro preciso, rischiamo che, al di là dell'ammunizione, potrebbe dare anche un calcio di punizione a due in aria. Non si può tenere la palla così tanto in aria, in mano. Lui fa molti passi. Complessivamente qualche giallo evitabile per la Ternana, diciamolo, anche quello di Petriccione. Anche quello di Defendi, un fallo inutile, però gli stessi falli poi dopo non sono stati sanzionati per l'entè. Comunque, insomma, tutto bene, spero che Falletti non si sia fatto nulla, perché mi dicono che sia un po' dolorante. Sembrava che, insomma, in campo stesso è benissimo, però dopo il fallo si risente dopo. Adesso andiamo a Frosinone, la partita è dura. Ripeto, la Ternana è ancora in una posizione di classifica difficile. Se avessimo avuto quei quattro punti, che probabilmente avremmo meritato in quelle partite, saremmo tutti più tranquilli. Secondo me la rossa di questa squadra può portarci alla salvezza. Ti do qualche spunto di riflessione che ho appunto osservato durante la partita. Poi mi dici se sei d'accordo. Aresti complessivamente mi ha dato una sensazione di sicurezza. Poi ho visto che gli piace giocare più fuori dai pali rispetto a Di Gennaro. Un leader molto vocale, chiamato in causa due volte due belle parate, perciò mi è piaciuto lui. Mi è piaciuta la solidità sia di Masi che di Valiant. Palumbo probabilmente in giornata in stato di grazia. Straordinario, soprattutto il tridente lì davanti, Falletti molto ispirato. Avenatti due gol, otto reti in quindici partite, finalmente un bottino di un certo rilievo. Ma soprattutto direi un Simone Palombi che per 65 minuti ci ha fatto vedere a sprazzi anche delle grandi giocate. Ma per bagaglio tecnico e rapidità di esecuzione. A me questo ragazzo sta veramente stupendo. Non so qual è la tua opinione. Questo per parlare di singoli. Iniziamo dalla fine. Palombi due partite e due gol. Tutte e due belli. Questo di oggi poi è fondamentale dopo due minuti ha sbloccato la partita. Poi è stato bravo. C'è stata la deviazione di Pellizzera. Ma insomma è un ragazzo che ha fatto due gol in due partite nelle quali è stato impiegato dall'inizio. Quindi io direi che per adesso il suo ingresso è fondamentale. Mi pare che abbiamo tardato anche un po' troppo a metterlo dentro. Per quanto riguarda Resti ha giocato bene. Devo dire che il portiere guida molto bene la difesa come dici te. Si fa sentire anche dal punto di stato. Non faccio altro che ripetere quello che hai detto bene te. Secondo me la scelta non è stata felicissima però. Anche se è andata bene. Perché cambiare il portiere in questa fase del campionato è un grandissimo rischio. Anche dal punto di vista della gestione del gruppo. Perché se poi dopo sto ragazzo oggi non andava bene rischiavi di bruciarne due. Però insomma adesso invece è andata bene. Quindi diciamo bene così. Sicuramente nelle uscite a Resti si fa preferire. Probabilmente Mazzoni anche si sarebbe fatto preferire. Ma questo ormai è un discorso passato. Per quanto riguarda gli altri singoli direi tutti abbastanza bene. Ecco Palumbo forse è la prima partita quest'anno che la gioca bene. Perché fino adesso quest'anno aveva deluso. Ma i tre davanti come dici te. E pensare che noi per un periodo dicevamo il problema della Ternana è l'attacco. Oggi Falletti, Avenatti e Palobbi. A chi li ha visti giocare la prima volta avrebbe detto la Ternana davanti non ha nessun problema. Poi è diventata la difesa il problema della Ternana. Oggi no, però in altre partite sì. Oggi Valiant per esempio, non so tu forse non lo sottolineavi prima o l'hai detto sì. Oggi Valiant è stato monumentale. È tornato ai livelli dell'anno scorso. Anche Masi, tante grandi chiusure. Siamo stati un po' anche aiutati secondo me da un'entella, ripeto, e non voglio ripetermi, molto deludente. Molto molto deludente. Comunque meglio così, meglio così. Io oggi non me ne sarei mai aspettato questo 3-0. Andiamo a casa tutti un pochino più contenti e soprattutto più tranquilli perché se guardi il calendario non avessimo vinto oggi eravamo una squadra che rischiava di aiutare il giorno d'andata negli ultimi posti. Gigi, in conclusione, aiutati probabilmente da una Virtus Entella che potrebbe aver subito il contraccolpo del gol appunto a botta fredda. Però una Ternana che ha gestito in maniera molto migliore rispetto a Salerni in momenti della partita ha aiutato anche da un pizzico di fortuna, soprattutto inizio ripresa. Ma detto questo, una Ternana che mi è sembrata complessivamente, a livello di interpretazione della partita, più matura. E al 26esimo sul 2-0 sinceramente io vedevo aleggiare un po' lo spirito di quello che è successo alla Reiki. Perciò anche questo è un passo in avanti da sottolineare. Beh, la Reiki ci ha rovinato il gol del 2-1, poi dopo l'espulsione, insomma una serie di episodi. Ma sai, un conto è giocare a Salerno, un conto è giocare in casa. Ma quello che mi sento di dire, al di là di quello, è che c'è stato un grandissimo progresso rispetto all'ultima partita in casa. Perché col Benevento in casa, soprattutto il primo tempo, è stato veramente imbarazzante. Oggi invece siamo andati molto meglio. E insomma, ecco, l'obiettivo è la salvezza. Direi che questi tre punti ci possono, non dico avvicinare alla salvezza, però ci permettono ancora di poter lottare e di poter stare un pochino più sereni per qualche settimana. Adesso poi a Flosinone, diciamo che forse giochiamo anche un pochino tranquilli, perché lì il pronostico è quasi chiuso. Poi dopo però mi pare che in casa abbiamo il Brescia, e quella sarà una partita da vincere, sarà una partita da vincere. Contro una squadra giovane come la nostra. Ternana che però si è portata sulla buona strada, speriamo che continui così con Costanza, che in questo momento è quello che serve. Grazie a Gigi Manini. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e per la scopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Luca Marchetti, giornalista di Sky, hai commentato la partita per la tua emittente, una tua valutazione complessiva, poi entriamo nel dettaglio. Una vittoria netta, forse troppo severa per l'Intella, che comunque non ha fatto una brutta partita. La Terni è stata però letale nei momenti cruciali. Ha segnato subito, è stata molto cinica, perché le prime di fatto due o tre occasioni a gol le erano realizzate. È stata molto attenta in difesa e questo forse era quello che chiedeva Carbone anche alla vigilia. Una concentrazione su tutti e 90 minuti in tutti i reparti, in attacco, al centrocampo e in difesa. Oggi credo che non ci sia assolutamente nessun giocatore della Ternana sotto la sufficienza piena, più che piena. E questo ha portato al 3-0. Adesso al di là del punteggio potrebbe essere 2, potrebbe essere 3-1, però credo che la Ternana abbia fatto sotto il profilo dell'intensità una delle migliori partite della stagione. Forse l'unica nota stonata, tra virgolette, se vogliamo proprio andare a pescare il pelo nell'uovo, è rappresentato da quel quarto d'ora abbondante tra i due gol, tra il primo e il secondo, in cui la Ternana si è difesa troppo bassa, peraltro senza concedere grosse occasioni agli avversari, ma concedendo agli avversari parecchi traversoni in area e cedendo troppo campo. Molto campo, poche occasioni, perché c'è stato un colpo di testa di Caputo che ha anticipato Masi, che è finito poco fuori, e un tiro di Costa Ferreira alto sopra la traversa. Secondo me, da come l'ho letta io, non ho avuto modo di parlare con Carbone di questo a fine partita. Il doppio trequartista ha messo un po' in difficoltà il centrocampo della Ternana. Infatti quando poi Palumbo è passato di fatto centrale difensivo con Petriccione che ha la tendenza a diventare l'altro centrale, avendo giocato a uomo sui due trequartisti, la Ternana non solo ha segnato il gol, ma ha anche ripreso campo. Diciamo che forse in quel frangente la Ternana ha ondeggiato. Dobbiamo fare i complimenti ai difensori perché sia Masi che Valiant oggi non hanno sbagliato neanche un pallone. Ecco, la gestione però delle due fasi nei 90 minuti e soprattutto del risultato probabilmente a livello complessivo è il più grande passo in avanti, soprattutto quando vieni da una partita come quella di Salerno dove degli errori di squadra individuali poi ti hanno condannato al risultato che ha fatto male. Sicuramente ha fatto male e credo che fosse nella memoria dei giocatori della Ternana, tant'è vero che Aresti ha cominciato a perdere tempo sulle rimesse dal fondo al trentesimo del primo tempo prendendo anche il cartellino giallo. Credo che quando rimani scottato dall'acqua calda poi paura, come si dice, anche dell'acqua fredda quindi è giusto non far tornare la squadra avversaria in partita e se eventualmente deve farlo che lo faccia il più tardi possibile e questo era l'intento, credo, della Ternana nel cercare di spezzare il ritmo che come dicevamo prima, soprattutto nei 15 minuti iniziali del primo tempo dopo il gol di Palombi fino al gol di Avenatti era un ritmo piuttosto intenso, piuttosto sostenuto quindi la Ternana non riusciva proprio ad uscire dalla prova in metà campo e quindi era giusto anche rallentare un po' sennò... E' appena citato gli attaccanti Avenatti e Palombi evidentemente tra le note migliori di uno splendido pomeriggio in chiave rossoverde. Palombi e se tutte le volte che viene schierato il primo minuto segna il primo quarto d'ora mettiamolo dentro. Peraltro ci ho parlato, l'ho conosciuto oggi voi sicuramente avrete avuto modo di parlarci è uno anche già molto determinato molto adulto in testa nonostante abbia appena 20 anni e sia la prima stagione da professionista è uno che ha saputo cogliere il momento adesso è chiaro che sta giocando perché si è fatto male la gumina perché sul racco non c'è e quindi magari poteva insidiargli un po' il posto anche se in realtà avendo segnato a Salerno avrebbe meritato sicuramente la conferma però è uno che la fase difensiva la fa anzi forse anche troppo rispetto a quello che diceva Carbone nel post partita i movimenti da prima punta ce li ha anche da seconda ben venga Ecco, prima hai parlato di Aresti te lo aspettavi in mezzo ai pali e ti è piaciuto e poi ne approfitto per chiederti anche tu che hai avuto i monitor e quindi in modo di rivedere il fallo di Keita su Falletti se ci hai visto volontarietà se l'arbitro avrebbe quantomeno dovuto ammonire il giocatore come l'hai visto? Che come minimo era da ammonizione intanto era fallo, primo secondo era come minimo da giallo secondo me era assolutamente volontario io l'ho detto anche in telecronaca secondo me l'arbitro ha proprio sbagliato la valutazione perché poi avrete modo di rivederlo io l'ho visto molte volte Keita si disinteressa totalmente del pallone che era in suo possesso e va a colpire Falletti e lo colpisce in maniera brutta perché gli colpisce proprio la caviglia destra che fa un brutto movimento infatti non vorrei che a caldo Falletti non provi dolore ma vediamo nei prossimi giorni se è tutto a posto perché comunque la botta è stata molto dura venendo da Aresti no che non me lo aspettavo credo che non se lo aspettasse nessuno a inizio settimana probabilmente ci ha cominciato a lavorare Carbone la motivazione l'ha data lui che ci fossero state delle incertezze non fra i pali di Di Gennaro ma nelle uscite lo avevamo sottolineato credo durante il campionato un po' tutti evidentemente questo tipo di incertezza l'ha avvertita anche Carbone sui propri difensori quindi ha ritenuto opportuno fare questo cambio io credo che non ci sia nulla di definitivo e di decisivo nelle scelte che si fanno il ruolo del portiere è un ruolo particolare prima ne parlavano anche Marchegiani studia Sky dicendo quando uno fa una scelta del genere poi è difficile tornare indietro infatti ha già letto Gaffrosino nel gioco a Aresti si è detto sicuro beh sì perché comunque se l'è meritato la Ternana soltanto due volte prima di questa non aveva preso gol contro il Pisa e contro il Bari quando non prendi gol generalmente fai punti generalmente ne fai tre se riesce a segnare cioè se riesce a segnare ne fai tre oggi non è stato soltanto merito di Aresti ma è tutta la difesa che ha giocato molto bene quindi magari anche di Gennaro avrebbe fatto il clean sheet come si dice però Aresti ha fatto bene si è meritato la conferma Luca per chiudere cosa significa in classifica tre punti d'oro a livello psicologico questo ritorno alla vittoria dopo una settimana molto complicata sul piano ambientale una prospettiva diversa quanto sono importanti questi tre punti ti ribalto la prospettiva in senso se non fossero arrivati sarebbe stata una situazione praticamente drammatica da un punto di vista sportivo naturalmente da un punto di vista di classifica invece adesso ti rimetti nel gruppone è vero con una partita alle porte è difficilissima però sei lì prima lo dicevamo anche con i manomari in radio la Ternana è la squadra più giovane della Serie B insieme al Brescia lo dicevamo anche con te in fase di presentazione della partita l'altro giorno venerdì non è un caso che le squadre più giovani prendano più gol la Ternana adesso ha staccato il Brescia ne ha presi quattro oggi mi pare il Vicenza a uno la Ternana a zero quindi è la terz'ultima peggior difesa della Serie B le altre due sono di due squadre molto giovani quindi chiaro che l'esperienza in qualche modo pesa pesa davanti e pesa dietro l'unica arma che si può avere per contrastare l'esperienza che manca è la pazienza da parte dei tifosi da parte dei giornalisti e da parte anche dello stesso allenatore cioè capire che se un progetto sta maturando oppure no nonostante la sconfitta di Salerno io avevo avuto la percezione che il progetto stesse continuando cioè la prestazione della squadra al di là del risultato che è stato bruttissimo perché vinci 2-0 e perdi 4-2 e da mani nei capelli però la prestazione della squadra non è stata la prestazione che si è buttata via che ha smesso di giocare al ventesimo che non sapevano più che fare in mezzo al campo sono state fatte delle decisioni giusto o sbagliate condivisibili o meno da parte della network e da parte dei giocatori che hanno una logica all'interno di un progetto finché c'è questo secondo me bisogna avere pazienza quando questo non ci sarà perché è possibile che non ci sarà perché uno può andare in confusione possono non più funzionare le cose proprio a causa dei risultati allora si dovranno prendere dei provvedimenti finché si può avere pazienza secondo me con una squadra di giovani bisogna avere pazienza grazie la prima volta ogni volta è la prima volta la prima volta che doni dona il sangue la prima volta e per sempre siamo con Francesco Betrelli Mixon liberati dopo Ternana Viltussentella 3-0 già dire che la Ternana ha vinto per il 3-0 contro un avversario che finora ha fatto molto bene in questo campionato è sicuramente qualcosa che magari oltre alle modalità della vittoria la vigilia non tutti ci aspettavamo beh ci aspettavamo sicuramente un'inversione di rotta da parte della Ternana dopo le ultime partite la partita di Salerno è stata un crocevia perché dopo che vincevamo 2-0 nessuno si sarebbe aspettato quel brutto finale oggi la Ternana è stata straripante diciamo perché comunque tre gol con Avenatti che è arrivato a Dottoreti non se lo aspettava nessuno diciamo che dopo i due gol abbiamo sofferto siamo stati anche un po' fortunati visto e considerato come anche un arbitraggio non proprio dalla nostra parte comunque alla fine siamo riusciti a portare a casa una vittoria che è essenziale che ci permette comunque di con serenità di pensare anche al traspetto di Frosinone Ultimi commenti allo Stadio Libero e Liberati dopo Ternana Virtus Centella 3-0 siamo con la redazione di CalcioTernano.it al completo alla mia sinistra Riccardo Tommasi mentre alla mia destra Tommaso Maria Ferrante partiamo con Riccardo la Ternana torna alla vittoria possiamo sintetizzare così questa partita delle fere il ritorno quindi ai tre punti la bella prova di Aresti alla prima stagionale qui al Libero Liberati ma anche in tutto il campionato e la doppietta di Felipe Avenatti unico neo forse forse possiamo dire così l'arbitraggio ancora una volta deludente sì 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 ho un po' sviscerato tutti i punti chiave di questa partita dopo due sconfitte di fila arriva il terzo successo stagionale per la Ternana tre punti che danno ossigeno alla classifica anche se rimaniamo ancora in zona play out buoni segnali della difesa rimaniamo con la porta inviolata a distanza di dieci turni se non vado errato ottimi segnali anche in attacco dove Palombi sfrutta nuovamente la presenza dal primo minuto questa volta ci mette 42 secondi per segnare è sicuramente una bellissima notizia per noi perché dietro da Venatti non sembrava esserci un secondo centroavanti in grado di essere incisivo in attacco il giocatore Scuola Lazio invece ci sta facendo ricredere dopo il gol di Salerno segnato anche oggi Felipe che dire siamo in prossimità della doppia cifra quando siamo un terzo della stagione perciò al di là di ogni burrosi è aspettativa tra l'altro se inizio anno ha tirato due calci di rigore adesso segna sempre su azione e questo è davvero molto positivo più in generale una vittoria netta contro una squadra che ha obiettivi playoff senza non sconderlo un'entella che veniva da tre gare senza subire reti da una serie di risultati utili consecutivi importanti è una vittoria quasi inaspettata dopo anche la settimana che abbiamo trascorso è un po' un po' travagliata diciamo sono d'accordo sul metro di giudizio dell'arbitro che è stato differente fra le due squadre abbiamo commentato poco fa rivedendo un fermo immagine l'intervento di Chedà su Falletti che è probabilmente da rosso diretto quantomeno non è molto differente dall'intervento che è stato sanzionato con il rosso di Meccariello a Salerno 5 gialli in una partita dove fondamentalmente tanti interventi duri noi non li abbiamo fatti sono troppi però come dice mister Carbone è un qualcosa su cui non possiamo lavorarci ce li deniamo speriamo che si inverta questo trend con Tommaso invece vorrei soffermare più che altro sulla prestazione di Simone Palombi un giovane che fino a poche giornate fa aveva avuto poco spazio in questa ternana anche il tecnico Carbone qui in Mixed Zone si è accorto di questo suo errore dicendo con il senno di poi potevo dare più spazio al giocatore Scuola Lazio tutti quanti dopo l'infortunio di Lagumina avevano un po' storto il naso sulle poche soluzioni offensive per quanto riguarda la ternana invece questo giocatore anche in questa circostanza in questa partita l'ha messa dentro si è intanto una curiosità la Lentella non si chiama più Virtus Entella dallo scorso anno ma si chiama semplicemente Entella questa è una curiosità appunto che da rimarcare di Simone invece vorrà rimarcare la prestazione di Simone Simona Resti che è un calciatore che anche negli allenamenti giovedì sono andato all'allenamento e si intuiva il fatto che probabilmente Carbone l'avrebbe schierato probabilmente per un discorso prettamente di esperienza ci sono sette anni di differenza fra Simone Resti e Raffaele Di Gennaro e a mio avviso potrebbe anche sembrare una sorta di staffetta che si è evidenziata qualche anno fa tra Ambrosi e Brignoli adesso l'idea sarebbe quella di proseguire fino alla fine del girone d'andata a mio avviso per cercare anche di dare continuità alle prestazioni di arresti stesso e dare soprattutto anche la possibilità di Gennaro di maturare e comunque sia diciamo anche di ammortizzare questa opzione questa soluzione differente è un aspetto secondo me piuttosto importante perché non si vede soltanto dalle parate l'importanza di un portiere ma si vede anche da come dirige da come parla da come detta tempi e detta soluzioni e a mio avviso oggi Masi e Valent ne hanno beneficiato anche in termini di sicurezza destinata a portata da tutto il reparto per quanto riguarda la prestazione di Simone Palombi il ragazzo del 1996 lasciamolo giocare soprattutto ha detto una cosa molto simpatica quando si segna si deve andare sotto la curva questi sono aspetti che magari per i tifosi anche casano da un punto di vista diciamo di appeal e è un ragazzo del 1996 ripeto quindi c'è poco da dire insomma ecco non mi soffermerei tanto su di lui benvenga che segnino che fai gol piuttosto ripeto secondo me la cosa più importante è la prestazione di Aresti da un punto di vista di sicurezza dispensata e la grande prova di Martin Valiant che oggi sembrava non era del 95 ma mi sembrava del 75 da un punto di vista di personalità e di consapevolezza che poi comunque si è avvertita in tutto il reparto a cospetto dell'attaccante tra virgolette più furbo della categoria ovvero Ciccio Caputo quindi riallacciandoci un attimo al discorso per quanto riguarda Simone Aresti adesso è difficile insomma toglierlo dalla porta il classe 1986 è difficile perché semplicemente ripeto questo è il paragone ecco può essere sotto certi punti di vista riproporzionato riproporzionabile alla personalità che poteva portarti Luca Mazzoni anche le prime dichiarazioni in sala stampa miei ragazzi quando ha parlato in mix zone insomma della prestazione della difesa miei ragazzi sembra una sciocchezza è un aspetto importante perché comunque sia lo ripeto vedendolo giovedì quando il tecnico ha provato quelle soluzioni quei movimenti senza palla con il portatore di palla e la pressione inversa era proprio lui che dettava tempi dettava passaggi e dettava soprattutto i movimenti senza palla dei propri compagni il portiere fa la differenza ma non fa la differenza secondo me soltanto nelle parate mi ripeto fa la differenza anche in questo faccio un esempio molto stupido ieri in cittadella Dallas Verona ragazzo l'estremo difensore del cittadella Alfonso è uscito ai limiti dell'area di rigore su una palla scoperta proveniente dalla sinistra con 20 giocatori che c'erano nell'area di rigore una cosa simile si è vista questo pomeriggio forse di Gennaro pecca da questo punto di vista ma secondo me potrà soltanto che migliorare anche dal punto di vista di personalità oggi si è visto questo e tutti i difensori che professionisti direttanti comunque avvertono soprattutto chi deve difendere le spalle a un portiere ecco forse allora Riccardo era proprio questa la soluzione vincente per questa Ternana che negli ultimi tempi ecco peccava un pochettino così possiamo dire di piccola ingenuità non erano così tanto compatti lì dietro in difesa perché forse veramente non c'era una persona che li riusciva a guidare sieramente come è stato effettuato oggi insomma da Simone Alessi abbiamo fatto anche la domanda abbiamo visto insomma che il ragazzo fino alla fine incitava i suoi dicendo guardate mancano due minuti siamo concentrati rimaniamo lì quindi forse cioè forse veramente Carbone ha trovato la pozione magica possiamo dire così beh sì diciamo che un po' il fattore comune delle ultime prove della Ternana dell'ultimo mese e mezzo diciamo era che ogni volta che gli altri scendevano potevi prendere col fondamentalmente era sempre un'azione pericolosa quella che veniva fatta dagli avversari oggi invece sì forse nel primo tempo un po' questo aspetto c'è stato ma nella ripresa non ha mai rischiato cioè la lentella ha creato delle occasioni però c'è stata più solidità difensiva oggi devo dire bene un po' tutti sulla linea difensiva ma anche il centrocampo ha fatto ha fatto un buon filtro per una squadra che deve salvarsi secondo me è fondamentale questo aspetto è vero oggi siamo riusciti a fare tre gol però non capiterà sempre non siamo una squadra che è in grado di vincere le partite 4 a 3 sempre come capita col Novara perciò avere una solidità di squadra è importante poi è vero squadra giovane fa più rire di una squadra esperta ok però già con un portiere che può mettere più esperienza a disposizione della squadra partiamo con qualcosina in più simpatica la battuta proprio di Resti ha detto sì il cartellino giallo abituatevi perché quando la squadra è in difficoltà sono pronta a sacrificarmi a prendermelo per far rifiatare questi ragazzi è esperienza è furbizia è malizia forse il 43esimo del primo tempo era un po' troppo probabilmente sì eccessivo ma eccessivo anche l'arbitro a dargli la secondo me perché era forse la seconda volta che faceva il furbetto poi furbetto alla fine è andato a prendere il pallone però per dire è un discorso che magari un portiere più giovane non fa proprio cioè neanche ci pensa è quel pizzico di esperienza in più che in una squadra molto giovane può servire allora migliore e peggiore per Tommaso? migliore per me Martin Valiant peggiore nessuno anzi che età scusate ho detto che Virtus Entella non esiste più quindi dell'Entella anche per quel fallo che non è stato sanzionato in maniera piuttosto singolare perché si stava per portare tutta la gamba al poro falletti quindi che età ecco dell'arbitraggio di Martinelli invece che ne pensi? ho visto probabilmente l'unico arbitraggio all'altezza quest'anno ieri di Davide Gersini in cittadella Verona quindi diciamo che la classe arbitrale non è che spicca da questo punto di vista questa stagione ha dispensato un po' cartellini non dico a casaccio però con un criterio assai singolare sì a senso unico anche se ripeto ce n'erano un paio nei confronti della Virtus dell'Entella che non sono stati poi combinati invece sempre a Riccardo migliore e peggiore di questa partita? concordo su Valiant nonostante tre gol oggi una prestazione fenomenale dello giovane slovacco in fase difensiva ma ha fatto anche due tre ripartenze petto in fuori faccia in avanti davvero da giocatore di altra categoria davvero probabilmente il talento più cristallino che abbiamo in questa rossa perché è un classe 95 quasi 96 di dicembre perciò davvero gioca da veterano è secondo me l'unico centrale inamovibile che abbiamo dei quattro di cui disponiamo sul peggiore campo tra di noi davvero nessuno tutti tutti sufficienti una prova positiva di tutti per l'entella secondo me quasi alla pari tutti i difensori perché da una squadra che comunque sia veniva da una bella solidità difensiva a prendere tre gol in quella maniera è sempre a difesa schierata diciamo è un problemino sul quale Breda dovrà andrò a rivedere ok della mix zona del libero liberati è tutto vi salutiamo e vi auguriamo una buona visione con i prossimi programmi di On TV Sport ma soprattutto Forza Ternana e ci rivedremo insomma nella prossima partita casalinga delle ferie grazie a tutti